Il prossimo è il numero 9, ho un po' paura, il numero 9 è Simone che interpreta Lolita da My Hero Academia Un applauso, forza! Ciao In realtà non voglio essere qui Sono anche abbastanza ridicolo oggi e non so cosa sto facendo della mia vita e basta Tutto questo è bellissimo Sono così parevo un male di domande ma giusto perché a quanto mi avete detto quelle 28 volte prima sei uno youtuber allora mi domando, visto che il tuo è fare uno youtuber come mai hai voluto comprare una parrucca e venire sul palco a interpretare un personaggio No, la parrucca in realtà è per nascondere una cosa non so perché non voglio sapere cose è che in realtà io non ho il video ma la parrucca è una cosa prettissima ma la parrucca comunque stava molto bene grazie noi la prendiamo, era un problema tanto non mi piace, è brutta guarda questa è un bel colore, mi piace va bene, allora facciamo un applauso come mai? come mai hai scelto questo personaggio? ah scusami non è un personaggio in realtà non esiste allora la mia domanda è che ci fai sul palco di una caracoste? forse non lo sai non lo so mi pare di aver intuito che non lo sai ringrazio ringrazio Fabio Z che è qui davanti si lo conosciamo lo conosci sono anni che viene Fabio Z conosci anche 20 euro per scurdo ma sono Fabio Z ok salutiamo la stream è fondamentale salutateli tutti ciao posso un pochino? però che di sei in gara? una Simone va bene il palco di Todi Christmas Comics sempre vario si va bene allora introduciamo il prossimo personaggio qualcuno l'avrà già vista prima ma è sempre un piacere vederla assolutamente solo che non la vedo la vedi la vedi è nascosto quindi dalla sirenetta che è il cartone un po' l'infanzo di tutti noi abbiamo Alice che interessa Simone chiedi se sei in gara chiedi se sei in gara anche se sei in gara chiedi se sei in gara a lei tanto sta fuori ora state emozionate state emozionate non so